Salve a tutti, il mio nome è Luciano e per chi non mi conoscesse sono un networker. Sì sì, hai capito qua tutto il tema. Un networker. Un network è quella figura che coltiva contatti sociali in vista di un possibile vantaggio professionale e il network marketing è semplicemente il movimento di prodotti o servizi dal fabbricante al consumatore finale attraverso un network di distributori indipendenti che va di anche partner. Facile no? Non ci hai capito niente, vero? Tranquillo, sono qui per darti qualche informazione in più. Cominciamo con lo usare parole più semplici in modo che tutti possano capire l'importanza di questo nuovo mondo o forse è meglio chiamarlo il lavoro del futuro. Guarda, la cosa può sembrarti difficile da capire. Può sembrarti un mondo strano fatto di numeri, algoritmi e studi da programmatore informatico a chi io ero nella tua stessa condizione, sai? Tanto da farti sembrare l'ultimo scienziato pazzo della Terra. E sta tutto il giorno sui libri a capire qual è la formula segreta del successo. No, tranquillo. Voglio solo farti conoscere una nuova opportunità. E solo un nuovo modo di guadagnare in modo del tutto intelligente, ma soprattutto in modo totalmente legale. Dai un'occhiata alla legge 173 del 2005, per la precisione 17 agosto 2005. Troverai proprio tutte le informazioni necessarie. Comunque, dicevamo, il network marketing, vedi, sta dando la possibilità a molte persone di vivere una vita più tranquilla. Alcuni sono riusciti già a realizzare i propri sogni, altri stanno raggiungendo i propri obiettivi ed altre persone ancora stanno riuscendo a capire come crescere a livello lavorativo. E non ti sto parlando di formule magiche o da pozioni miracolose che ti trasformano da un giorno all'altro da persona, come dire, desiderosa di tranquillità economica che ha preso in passato qualche pugno dalla vita. A persona totalmente benestante e felice! Ma sapi una cosa, io ti sto parlando di lavoro. Sì sì, un lavoro vero! Oh, proprio come un lavoro! Insomma, un lavoro! Fatto, vi sacrifici! E di su dove? Dove dovrai impegnarti? Dove dovrai essere più forte di un leone? Più determinato di una tigre! Perché non c'è successo senza impegno! Ma la cosa più importante, la vera opportunità, sai qual è? È che tu vuoi avere un'occasione! E puoi stare tranquillo, non vedere il network marketing o il networker stesso come... Come un orco cattivo! Oppure come uno squalo pronto ad attaccarti! Hai di inseguirti per spillarti un po' di soldi! E non siamo neanche degli alieni venuti da chissà quale pianeta per farti il lavaggio del cervello con i nostri raggi X! O a nientarti definitivamente con i nostri colpi segreti! No, no, tranquillo, non siamo così! Ma lo sai perché? Perché siamo persone normalissime! Che hanno risolto un problema! Siamo felici dei risultati ottenuti! E amiamo condividere con altre persone la nostra esperienza positiva! Tutto qua! E non farci caso se ho usato un modo un po' ironico per presentarti più o meno il mondo del network marketing! Ma è il mio modo di vivere le cose! E se solo vorrai potrai anche tu trovare il giusto modo! Oppure essere seguito da persone che hanno iniziato prima! Se siete curiosi, se credete nella crescita personale, se magari volete migliorare la vostra situazione economica, oppure magari togliervi qualche soddisfazione in più, anche come seconda attività, e magari dimostrare a voi stessi quanto valete, Siete nel posto giusto! Potete contattarmi come volete! Lascio a voi la scelta! Anche per una semplice informazione sono a vostra disposizione! Allora, qui sotto troverete il mio indirizzo email e sopra il nome per accedere al mio profilo Facebook! Oppure! Metti un bel mi piace e sarò comunque lieto di inviarti la mia amicizia! Quindi, mi raccomando, non perdere la tua occasione perché hai una soluzione! Usala! Ti aspetto! Hasta luego, amico!